Una settimana di grandi appuntamenti con i protagonisti della scena musicale internazionale e il Nume Academy Festival in programma cortona sino a domenica 25 giugno. Cuore pulsante del festival, l'Accademia per Violino, Viola e Violoncello che quest'anno ha tirato più di 300 aspiranti candidati da tutto il mondo per soli 12 posti disponibili. Ci sono ben 12 ragazzi che hanno già vinto concorsi importantissimi a livello mondiale che sono già proiettati in una carriera stratosferica insieme a dei grandissimi docenti quindi cortona diventa veramente il centro della musica classica in questa settimana. Più di 30 gli artisti che si esibiranno, nuovi concerti tra le sedi del Teatro Signorelli, il Relè La Corte dei Papi, il Relè Chateau Il Falconiere e il Centro Convegni Sant'Agostino. Ci sono le rock star della musica classica qui a Cortona per una settimana quindi sì, c'è un incontro di generazioni, le nuove promesse della musica classica insieme alle stelle affermate.